Non solo sport. Dopo la realizzazione dei due campi da gioco nell'area Gaggetto, inaugurati a fine giugno, l'amministrazione comunale di Laveno-Mombello non si ferma e si impegna per promuovere lo sviluppo turistico del territorio, soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown, caratterizzato da chiusure forzate e dalla crisi. A partire dal weekend del 24 e del 25 luglio, la strada provinciale che collega il Gaggetto a Cerro resterà chiusa tutti i fine settimana, fino al termine della bella stagione. Vogliamo favorire l'arrivo dei turisti e valorizzare le bellezze della nostra Laveno, dice il sindaco Luca Sant'Agostino. Abbiamo ottenuto dalla provincia la possibilità che tutti i weekend la strada provinciale che dal Gaggetto, quindi da nuova spiaggia fino a Cerro, sia resa pedonale. Quindi avremo il sabato e le domeniche con le chiusure e la possibilità dei cittadini di andare a piedi dall'Aveno a Cerro e godere delle spiagge che ci sono lungo la costa che stiamo ripulendo e sistemando. Abbiamo già visto con le piccole aperture che sono state in queste periodi di lockdown che il turismo ormai è diventato un turismo di prossimità. E quindi dare la possibilità a tutti coloro che vogliono godere della bellezza di questa aree, della bellezza del lago, delle spiagge, del verde e dell'architettura anche che c'è lungo questa strada, in tutto il nostro territorio, è sicuramente l'obiettivo che vogliamo perseguire. Quindi questi progetti vanno in questa direzione, è un primo anno di sperimentazione in un periodo molto difficile. In base a questi risultati poi decideremo come proseguire negli anni futuri. E che l'Aveno abbia voglia di ripartire all'insegna del divertimento e della socialità, sempre nel rispetto della normativa anti-covid, lo dimostra anche Comic Sponde, il festival del fumetto e dei videogiochi, in programma in città proprio a partire da questo weekend.